Non può lasciare indifferenti le tante comunità interessate la ricorrenza dell'anniversario di quella che è stata definita la tragedia della Bari Nord, 23 vittime ed oltre 50 feriti, oltre a centinaia di persone all'opera per la maxi-emergenza provocata lo scorso 12 luglio dallo scontro dei due treni della ferrotranviaria sulla tratta Andrea Corato. Proprio tra Andrea e Corato le iniziative più significative in quella che è stata ribattezzata la giornata sulla sicurezza ferroviaria e che in tono molto sobrio punta a ricordare quella giornata sensibilizzando la collettività ed in particolare le istituzioni. Si parte da Corato dove alle 17.30 nel piazzale antistante la stazione delle ferrovie del nord barese sarà scoperta una targa e ridenominata la piazza vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Alle ore 18.30 poi in piazza Cesare Battisti sarà celebrata una santa messa di suffragio ufficiata dal vicario zonale Don Peppino Lobascio. Nella cittadiana invece alle ore 20 in cattedrale il vescovo Monsignor Luigi Manzi presiderà una celebrazione eucaristica ad un anno dal tragico incidente ferroviario. Per il giorno dopo invece il 13 luglio a partire dalle ore 19 nella concattedrale di Santa Maria Maggiore di Barletta vi sarà anche qui una messa di suffragio.